C'è la conferma d'Alvi Minale, nessuno slittamento nel voto di giugno, anche Bari nel decreto ministeriale sui centri alle urne delle amministrative nonostante la commissione a lavoro. A doppio turno nell'area metropolitana anche Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano e Santeramo. Sarebbero gli autori di 12 furti di auto tra aprile e maggio 2023, tutti commessi nel nord del capoluogo. Scacco alla banda di giovani bitontini ad avviare le indagini, un video sui social che ha fatto il giro del web. Dal suo appartamento romano al foyer del teatro radar di Monopoli, Emilio Solfrizzi, celebre attore barese, ha donato il suo pianoforte Coda Steinberg al teatro Kismet per posizionarlo nel Politeama del sud barese. E non sono mancate le sorprese. Le notizie da Bari batte Foggia ben ritrovati, apriamo con le prossime amministrative nel capoluogo pugliese perché c'è la conferma da parte del Viminale, nessuno slittamento del voto di giugno, anche Bari nel decreto ministeriale sui centri alle urne alle amministrative nonostante la commissione a lavoro per verificare se ci siano le condizioni per lo scioglimento del capoluogo a doppio turno, sempre nell'area metropolitana, anche Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano e Santeramo. Il punto con Antonio Bucci. Dal Viminale, lo avevano detto, nessuno slittamento del voto con o senza commissione prefettizia sulle condizioni per lo scioglimento del comune capoluogo. La novità è il decreto del ministero dell'interno con i centri alle urne, nella tornata dell'8 e 9 giugno. Bari c'è. D'altro canto, i primi tre mesi di accertamenti dei commissari, prorogavoli eventualmente per altri tre, scadono subito dopo i ballottaggi. Dopo il deposito della relazione, il prefetto avrà altri 45 giorni di tempo per predisporre la sua di relazione, sentito il Comitato per l'Ordine, la Sicurezza e il Procuratore della Repubblica, intanto si vota. 345 sezioni, 315.000 abitanti per 278.000 aventi diritto rilevati al 31 dicembre scorso e una sfida che, insieme a quella di Firenze, rappresenta il termometro più importante per l'Election Day con le europee. Due candidati a sinistra, Fabio Romito per il centrodestra, e una terna di candidati civici che dovrebbero cristallizzare la griglia di partenza. 62 i centri totali al voto in tutta la regione. Nel Barese, a doppio turno, andranno Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano e Santeramo. Un confronto intenso, invece, è quello che si è svolto durante il forum sulla situazione del verde pubblico a Trani, organizzato da Lega Ambiente. C'è a giorno Andrea Catino. Un forum tra associazioni ambientaliste, istituzioni e tecnici dedicato alla situazione del verde pubblico a Trani. Lega Ambiente ha ospitato il dibattito nella biblioteca comunale, oggetto il rapporto tra verde pubblico e salute fisica e psicologica delle comunità. Abbiamo organizzato questo incontro come Lega Ambiente e Bene Comune, in collaborazione proprio con il Comune di Trani, proprio perché numerosi studi scientifici pongono il tema della salute e come fondamentale il rapporto con il tema del verde. Oggi siamo qui per dare la possibilità ai cittadini di confrontarsi con esperti del settore, quindi agrotecnici e agronomi, ma anche con la parte politica. Noi abbiamo risposto in maniera positiva alla richiesta di Lega Ambiente, perché quando si tratta di incontri che hanno come finalità un qualche cosa di costruttivo, una proposta, un confronto, anche aspro, anche su cui non c'è problema, ma che alla fine possa portare a condivisione almeno su qualche punto, su qualche tema, ben vengano questi tipi di occasioni, questo tipo di incontro. Tra i presenti al dibattito anche i rappresentanti delle altre associazioni presenti nella consulta ambientale e ben tre ex assessori all'ambiente, Michele Di Gregorio, Pierluigi Colangelo e Raffaella Merra. Proprio con quest'ultima e con le associazioni scese in piazza domenica per protestare contro la gestione del verde pubblico, non è mancato un duro scontro con l'amministrazione comunale. La situazione attuale del verde pubblico è sicuramente, diciamo, disastrosa, nel senso che anche un report di due anni fa, prima ancora di abbattere gli abbattimenti, diciamo, degli abbattimenti che sono avvenuti poi nel contempo, tra l'altro fatto anche da Lega Ambiente Puglia, ci dice che a Trani ci sono solo 2,2 metri quadri di verde per abitante, quando in realtà la media italiana è di 13 e dovrebbero essere 15. Quindi siamo in una situazione disastrosa, però ora vediamo tanta gente qui presente, quindi siamo nel momento dell'azione, di essere propositivi. Niente schema di rimpasto dopo la riunione della Giunta regionale. Michele Emiliano non scioglie i nodi nel centro-sinistra, intanto approvata la rotazione dei dirigenti delle sezioni ad alto rischio di corruzione. Un'aggiunta regionale convocata per comunicazioni urgenti del Presidente, chi si aspettava però che fosse quella nella quale annunciare lo schema di rimpasto, sarà rimasto deluso. Il cerchio non si chiude, Michele Emiliano riunisce i suoi, in via Gentile e alcuni degli assessori si dicono pronti a rimettere le deleghe nelle sue mani. Potrebbe farlo Roccopalese, lasciando la sanità e liberando uno dei due posti da tecnico a disposizione. L'altro è a pannaggio di Enagrazia Maraschio, unica rappresentante di sinistra italiana. D'altro canto, lo spazio concesso dallo statuto è stretto. 8 su 10 titolari di delega devono arrivare dall'interno del parlamentino, rendendo così più difficile anche l'innesto di magistrati e uomini e donne d'ordine per segnare il cambio di passo chiesto dalla segretaria PD e l'Ischlein. La riunione è servita ugualmente ad approvare il programma di rotazione ordinaria del personale, obiettivo rendere più stringente la rotazione dei dirigenti nelle sezioni ad alto rischio di corruzione, riducendo il termine degli incarichi da tre anni prorogabili di altri tre a tre anni prorogabili per altri due. 193 leghe candidature per la nomina dei direttori di dipartimento, del segretario generale della Presidenza e del direttore della struttura speciale per la comunicazione istituzionale, avviata con il bando del 15 marzo scorso. Altro organismo fresco di nomina è il gruppo di lavoro per valutare i requisiti di ammissibilità per la nomina dei direttori. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il procuratore, capo di Bari, Roberto Rossi, saranno ascoltati in Commissione parlamentare antimafia in merito alle recenti vicende e inchieste legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese, in particolare nel capoluogo. A deciderlo l'ufficio di presidenza della Commissione a quanto si apprende da fonti secondo cui le date non sarebbero state ancora fissate per aspetti di ordine tecnico. La cronaca sarebbero gli autori di 12 furti di auto tra aprile e maggio dello scorso anno tutti commessi nel nord del capoluogo. Scacco alla banda di giovani bitontini ad avviare le indagini. Un video postato sui social a santo spirito che in poche ore ha fatto il giro del web. Furto e riciclaggio di autovetture. Con questa accusa gli agenti della polizia hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di altri tanti giovani bitontini, tre domiciliari, uno con obbligo di dimora. L'indagine della squadra mobile diretta da Filippo Portoghese coordinata dalla procura del capoluogo è partita dal furto di un SUV Mercedes spinto da una Golf nel gennaio del 2023. Il video postato sui social ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. Dopo quel caso a santo spirito sarebbero 12 gli episodi delittuosi tutti consumati tra l'aprile e il maggio del 2023 e contestabili ai quattro tutti giovanissimi tra i 25 e i 22 anni due dei quali fratelli che avevano messo su un vero e proprio gruppo criminale con un'unica cabina di regia. Il sodalizio poteva contare anche su basi logistiche dove custodiva le autovetture utilizzate per compiere i furti, inibitori di frequenze e jammer e arnesi da scasso. In un primo momento le attività investigative si sono concentrate nelle campagne della città di Bitonto dove le autovetture rubate dal gruppo o nella loro disponibilità sarebbero state cannibalizzate in pochissimi minuti. Fondamentale all'indagine l'individuazione e il sequestro in uno stabile con annesso capa non industriale recintato e intestato a una quinta persona di un Audi SR3 di colore nero con le stesse caratteristiche di un'auto più volte sfuggita ai controlli anche attraverso pericolosi inseguimenti. L'autovettura dai successivi accertamenti è risultata rubata con numero di telaio contraffatto. Per gli inquirenti i pezzi asportati dalle auto sarebbero stati venduti sul mercato nero del sud foggiano. E invece è mistero proprio a Cerignola per il furto nel cavo della banca Unicredit in Corso Garibaldi, svaliggiate decine di cassette di sicurezza, ci racconta quanto accaduto. Antonella Davola. I ladri si sarebbero introdotti nel cavo eludendo i sistemi di allarme, nessuna effrazione, nessun foro praticato nei muri. E' così che decine di cassette di sicurezza sono state ritrovate aperte e svuotate nella filiale della banca Unicredit di Corso Garibaldi a Cerignola nel Foggiano. Difficile venire a conoscenza della precisa entità del furto, poiché a conoscere l'esatto contenuto delle cassette di sicurezza sono solo i titolari e non anche i dipendenti della banca. Sono stati proprio questi ultimi ad accorgersi dell'accaduto e ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che stanno tuttora conducendo le indagini per ricostruire le modalità e le tempistiche del furto. Al vaglio anche l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno e all'esterno dell'Istituto Bancario. Minacciavano gli automobilisti e chiedevano soldi per non danneggiare le autovetture. Arrestati a Trani, tre parcheggiatori abusivi in piazza Remanfredi. Vediamo. Minacciavano gli automobilisti e chiedevano denaro durante la loro attività di parcheggiatori abusivi. La questura della Bata ha arrestato due uomini di 37 e 49 anni trasferiti presso la locale casa circondariale e una donna di 42 anni sottoposta agli arresti domiciliari. I tre, che operavano in piazza Remanfredi alle spalle del Tribunale di Trani, avvicinavano gli automobilisti dapprima indicando il posteggio nelle strisce blu, poi minacciando danni alle vetture nel caso in cui gli occupanti non avessero corrisposto il pagamento di un obolo. I responsabili erano già stati raggiunti dal daspo urbano. Agivano in piazza Remanfredi, via Lonelli, zona centro storico di Trani, nei pressi del castello e invogliavano tutti i cittadini a una elargizione a loro favore al fine di guidarli non solo nelle manovre di parcheggio, non solo nell'indicazione del posto auto, bensì anche li minacciavano di ritorsioni, qualora non avessero consentito alla elergizione. Numerosi gli episodi che hanno messo a repentaglio l'incolumità delle auto con frasi come «Se vuoi stare tranquillo devi pagare me», pronunciate ripetutamente dai tre arrestati. I due uomini e la donna dovranno rispondere a distorsione, attività illecita di parcheggiatori abusivo e violazione del daspo urbano. La questura della BAT prepara nuovi presidi per monitorare la zona. Non è necessario che il cittadino venga qui per una denuncia a carattere penale, non è necessaria una quirela, è necessaria una semplice segnalazione. Sulle basse della segnalazione noi arriviamo sul posto indicato dal cittadino, la segnalazione può essere anche anonima, fatta in questura in maniera anonima. E da Trani con Antonio Gargano ci spostiamo invece a Cerignola, di nuovo a Cerignola perché i cittadini sarebbero esasperati da motociclisti che invadono parchi e marciapiedi in tutto. Sono stati disposti sette daspo urbani in un'indagine della Polizia Locale. Quello delle scorribande di scuteristi sui marciapiedi e tra le aiuole, minando l'incolumità di famiglie e bambini, è un fenomeno che dilaga e preoccupa fortemente la cittadina di Cerignola. E di sette daspo urbani il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia Locale per garantire la sicurezza all'interno del parco Mezzaluna. A motivare l'intervento le numerose segnalazioni di cittadini. L'operazione ha visto l'impiego di tre auto civetta con personale in borghese, due agenti motociclisti e un'auto di istituto a supporto. Diverse le motivazioni alla base delle misure adottate, due contestazioni per circolazione senza casco con altrettanti sequestri dei mezzi, quattro violazioni per circolazione su aria pedonale e una denuncia all'autorità giudiziaria per possesso di sostanze stupefacenti. In pratica attraverso l'ausilio di tre pattuglie di polizia locale, di vigili in borghese, una con l'ausilio di moto, quindi una pattuglia di motociclisti, e due invece con auto di istituto, hanno effettuato un'operazione all'interno del parco Mezzaluna contro purtroppo questa cattiva abitudine che hanno i giovani ragazzi di Cerignola, cioè quella di transitare all'interno di aree pedonali a bordo di moto. Questo è un intervento straordinario da parte della polizia locale che continueremo a svolgere ed effettuare per tutta la stagione estiva perché bisogna riappropriarsi di quegli spazi che devono essere destinati ai bambini, ai giovani, ai ragazzi per socializzare, per trascorrere un po' di tempo libero e che non possono essere vittime di investimenti da parte di ragazzi che purtroppo sono oggi ancora irresponsabili. Una sorta di ritorno a casa, Valeria Montarulli è la nuova presidente del Tribunale dei minori del capoluogo, proprio qui infatti ha mosso i primi passi in magistratura. Visi gli articoli 9 e 10 dell'ordinamento giudiziario 41 e 42, registro generale giudiziario, su richiesta del pubblico ministero, dichiara il magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, dottoressa Valeria Montarulli, immessa nell'esercizio delle funzioni di presidente presso il Tribunale per i minori di Bari. Valeria Montarulli è la nuova presidente del Tribunale per i minori di Bari, a stabilirlo il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che si è riunito a gennaio scorso, votando anche il nuovo avvocato generale della Corte d'Appello di Lecce, che sarà Giovanni Gagliotta. Figlia, anzi nipote d'arte, anche gli zii sono stati a suo tempo in magistratura, il neopresidente succede a Riccardo Greco, andato via a settembre scorso. Nel frattempo a dirigere il Tribunale dei minori c'era la facente funzione celeste calvanese. Bari è una sorta di ritorno a casa per Montarulli. Proprio qui, infatti, ha mosso i primi passi nella giustizia minorile. Il Tribunale per i minorenni di Bari ha una grandissima tradizione e quindi io cercherò di essere all'altezza di questa tradizione. È un Tribunale pilota per quanto riguarda il raccordo con tutte le istituzioni del territorio e con il privato sociale, quindi curerò molto questo aspetto e cercherò veramente di affrontare le emergenze che riguardano i nostri ragazzi, che sono tante. Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Formedil, la celebra in anticipo all'insegna della formazione per promuovere buone pratiche e la cultura aziendale. I dati che provengono da Linea sono dati abbastanza importanti. In Italia si parla di 96.000 infortuni sul lavoro. Ogni giorno ci sono circa due morti. Noi dobbiamo cercare di abbattere questa scia di sangue continua che c'è sui cantieri, perché poi a volte nei cantieri di lì un minimo di distrazione può provocare quell'incidente. Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro in anticipo, ma con i numeri IMSS che non lasciano tranquilli e così da Formedil rilanciano sulla formazione. Giornata di studio per promuovere buone pratiche e cultura aziendale della prevenzione con la nascita del gruppo Sicurezza dell'organismo e alla presenza dei giovani studenti del liceo artistico statale Denittis e dei colleghi del Pino Pascali di Bari, autori di opere e anche di un morale esattema. La sicurezza spiegano, si impara da piccoli. Nasce il gruppo Sicurezza. Il gruppo Sicurezza che è un gruppo che si ampliereà sempre nel corso dei giorni che verranno di RLS, RSPP, cioè responsabili della sicurezza aziendale, responsabili della sicurezza dei lavoratori che saranno aggiornati costantemente. Quello che intendiamo fare è inculcare la cultura della formazione. Un network virtuale e operativo fra tutti i comuni della Puglia che puntano anche sul territorio per diversificare l'economia attraverso l'innovazione digitale. Questo è il contenuto del patto di comunità digitale We Are in Puglia. A servizio dei comuni che puntano anche sul turismo per diversificare l'economia attraverso l'innovazione digitale. Questo in sintesi il contenuto del patto di comunità digitale We Are in Puglia con la premiazione dei comuni pugliesi più citati sul web e con il sentiment più alto. Nascerà così un network virtuale e operativo tra tutti i comuni della Puglia attraverso i loro referenti digitali, la regione Puglia con riferimento a turismo e cultura, i poli biblio-museali di concerto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. In ultimo il marchio We Are in Puglia è stato appena registrato a livello europeo. Il programma ha previsto la formazione sui servizi dell'ecosistema del sito web Viaggiare in Puglia e l'app We Are in Puglia, i social, i contenuti multimediali, la promozione di eventi e attività, la condivisione di dati, open data e nuova data platform e poi la presentazione del patto di comunità digitale We Are in Puglia. Come prossimo passo ci sarà anche la definizione di un nuovo media plan nazionale e internazionale che parlerà molto in termini di digitale perché come sappiamo poi i processi turistici in gran parte si svolgono sul web e si basano sulle nuove tecnologie per cui per noi anche il consolidamento del brand Puglia passa attraverso l'utilizzo di questi strumenti. Oggi premiamo i comuni più noti sul web e presentiamo il marchio We Are in Puglia registrato a livello europeo. Stiamo lavorando moltissimo con i comuni e pensiamo che il turista inizia a sognare già sul digitale. La salicoltura marina è pratica agricola. Margherita disse a voi alla seconda tappa del progetto di Confagricoltura e le saline italiane per definire una proposta di legge che fissi i criteri normativi per la salicoltura marina con l'attività agricola. Maria Fiorella. La coltivazione del sale marino può ed anzi deve per Confagricoltura essere assimilata all'attività agricola. Si parla in tal senso di salicoltura. Pertanto nasce la necessità di una normativa mirata promossa dal sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura Patrizio Lapietra che scinde l'attività di estrazione da quella della coltivazione. Il tema al centro dell'incontro l'agricoltura coltiva il sale tenutosi a Margherita di Savoia in cui prende forma a lungo il litorale adriatico all'estremo limite della Daunia a 5 km dall'Ofanto la salina più grande d'Europa. 4.500 ettari di salina, qui il sale si coltiva, non si estrae. Un progetto ambizioso, un progetto che segue il ciclo della vita, quindi un ulteriore passaggio di Confagricoltura che si occupa a 360 gradi di tutto ciò che collega Confagricoltura ai cicli biologici. Coltivare il sale e raccoglierlo è affine a quello che si fa nei campi in tutta Italia dove l'agricoltura si sviluppa. Abbiamo qui e con l'altra salina che abbiamo in Sardegna quasi il 90% del sale marino prodotto in Italia. Vale la pena evidenziare che dal 2019 la Francia ha inserito la salicoltura nelle attività agricole nazionali attraverso la modifica del codice rurale e della pesca marittima. In Sicilia poi il piano di gestione delle saline di Trapani e Marsala fa già rientrare la salicoltura nelle attività agroforestali. E sommando le varie realtà fra diretti e indiretti arriviamo a circa 400 persone. Le 500.000 tonnellate di sale raccolte a Margherita di Savoia per il 95% restano in Italia, ha spiegato Bruno Franceschini, presidente di Atisale. Noi siamo leader nell'ambito della GDO, quindi dove prendiamo il sale per il consumo umano che ne consuma circa 150.000 di queste e poi tutte le aziende dell'agroalimentare usano il nostro sale. Un'opportunità per le imprese di un territorio come quello pugliese, ricco di eccellenze per tipicità di prodotti nel settore food ad aeroporti di Puglia. Le aziende del made in Puglia incontrano un gigante del travel retail. Creare un'occasione di confronto tra le imprese del comparto food è un player, il gruppo Gerb Einemann con una storia di oltre 140 anni nel settore e che è oggi uno dei principali operatori globali nel mercato internazionale del travel retail e duty free. Aeroporti di Puglia con il supporto organizzativo di Union Camere Puglia ha promosso un incontro con il gruppo tedesco Top Player Mondiale che sul mercato europeo fornisce oltre 1000 clienti in oltre 100 paesi. Nel settore del commercio al dettaglio la società gestisce oltre 140 negozi, boutique di marchi di moda e concept store in 74 euro a porti di 28 paesi, oltre a negozi e ai valichi di frontiera e a bordo delle navi da crociera, tra questi ovviamente anche lo scalo del capoluogo. Poter offrire dei prodotti locali quindi distintivi rispetto a prodotti più standardizzati credo che rappresenti un importante valore aggiunto sia per i passeggeri italiani e stranieri e nel contempo rappresenti una grande opportunità per tutti gli imprenditori locali del food and beverage regionali che vogliono entrare in questo nuovo canale. Finalmente riusciamo a portare oltre 250 aziende pugliesi a conoscere il grande mondo del duty free globale. Oggi con Heinemann e con il sistema di Union Camere facciamo incontrare domande offerte all'eccellenza e il fascino dei prodotti pugliesi, del meglio della produzione vitivinicola, agricola veicolata sui 450 scaffali dei più grandi aeroporti al mondo. 56 anni di attività per la pasticceria Morisco di Bari, il comune premia un'attività storica del capologo pugliese, Domenico Brandonisio. Una targa di riconoscimento per celebrare gli oltre 50 anni di attività del bar pasticceria Morisco, eccellenza della gastronomia dolciaria cittadina, è quella che è stata consegnata a Palazzo di Città da parte dell'amministrazione comunale a Saverio Morisco, momenti di grande commozione ed emozione. Cosa significa per lei questo riconoscimento? Un orgoglio, un piacere di cui sono 56 anni di attività, non 50 che mi riconoscono, sono 56, comunque lo stesso, è già un onore avere, diciamo. Qual è il segreto? Io ho lavorato dall'età di 12, da 10 anni, fino adesso, 81, ecco il segreto, bisogna stare sempre in vita, stare bene per lavorare, di salute. E tanta gente che l'apprezza soprattutto? No, parecchi figli specialmente, quelli che mi apprezzano a morire. Abbiamo voluto premiare l'attività del Sion Morisco e dalla sua famiglia che da tanti anni lavorano nella nostra città, sono simboli, ecco abbiamo voluto valorizzare questa attività, questa professionalità, l'opportunità di lavoro per tante persone, un pezzo di storia della nostra città che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Dal suo appartamento romano al foyer del teatro Radar di Monopoli, Emilio Solfrizzi, celebre attore barese, ha donato il suo pianoforte Coda Steinberg al teatro Kismet per posizionarlo nel politeama della cittadina del sud barese e non sono mancate le sorprese, vediamo. Uno strumento musicale messo a servizio della comunità grazie alla generosità di Emilio Solfrizzi, il popolare attore barese ha infatti donato al teatro Kismet il suo pianoforte Coda Steinberg custodito nel suo appartamento a Roma. Lo strumento è stato trasportato a Monopoli e posizionato all'interno del foyer del teatro Radar. Un luogo simbolico sul palco del teatro di proprietà del comune di Monopoli ha portato lo spettacolo Lana tra l'arancia dove protagonista insieme a Carlo Tanatoli che condivide i suoi spazi con il conservatorio di musica Nino Rota. Non solo studenti e professori del conservatorio di Monopoli ma anche cittadini e il pubblico di tutte le età del Radar avranno così da oggi uno strumento per fare comunità attraverso la musica. La prima persona a suonare il pianoforte infatti è stata Alessia Benedetti, studentessa di pianoforte del conservatorio Rota di Monopoli ma anche il popolare attore protagonista della serie Tutti i pazzi per amore si è esibito in una performance che richiama la hit di Filomena Cosa Depurata. Il pianoforte è uno strumento di aggregazione, è uno strumento che serve per per avvicinare una comunità insomma che si parla attraverso la musica. Questo pianoforte sarà a disposizione di tutti i cittadini, gli spettatori, gli studenti, i maestri, gli insegnanti del conservatorio, tutti quelli che lo vorranno usare. Ma chi è questa voglia che ho di te? Ma che fai? Assurdo, assurdo, te ne vai dall'esistenza mia. E con questo chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale dopo la pubblicità, le notizie da Taranto, Brindisi e Lecce. State con noi. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.